La creatività salva la persona, ne sono convinti Alfredo e Fabiola Pacassoni che questa mattina hanno presentato alla stampa il libro intitolato Cos'è? Dove? Perché evolve? Come cercare di dire no all'Alzheimer? L'opera ha l'obiettivo di divulgare la conoscenza della malattia spiegando l'importanza di condurre una vita da esploratori, artisti e atleti. Presupposti sui quali è necessario lavorare fin da piccoli con il supporto della famiglia, della scuola e del territorio. Il lavoro a quattro mani è stato realizzato dai fratelli che nella vita, sia privata che professionale, hanno sempre cercato di dare un apporto concreto al benessere e alla cura delle persone. L'Alzheimer è una delle forme più diffuse di questa temuta e terribile malattia che se adesso ha ceduto il passo un po' al Covid è comunque classificata come una pandemia mondiale. Ci sono delle stime altissime per i prossimi anni, addirittura nel 2050 ci sarà una vera e propria emergenza e tant'è che sia le associazioni a livello mondiale che europeo si stanno muovendo per creare dei protocolli di cura che possano prevedere quelle che sono, diciamo così, le vere modalità di presa in carico della persona. E la persona, l'individuo, dovrebbe essere al centro dell'attenzione della comunità e delle istituzioni, ma a volte hanno detto non è così. Fra 30 anni si stima che due persone su tre siano affette da una forma di demenza. E' quindi importante ora far conoscere a tutti non solo di che cosa si tratta, ma anche quali sono gli strumenti adatti e i comportamenti che ognuno di noi dovrebbe tenere nel corso della vita, dando spazio innanzitutto alla creatività. La creatività ci può salvare perché ci apre nuove strade, ci apre nuove possibilità, ci apre nuove progettualità. E quindi è importante che essere creativi non diventi, come dire, esclusiva solo nel momento del bisogno, perché poi in quel momento è difficile attivare un processo educativo e di sviluppo che dovrebbe iniziare, diciamo così, dalla prima infanzia. L'esperto di creatività Alfredo Pacassoni, già ideatore del progetto Fano, città delle bambine e dei bambini, ha annunciato di voler distribuire il più possibile questo libro, nei clebanziali, nelle scuole, ma anche negli esercizi pubblici come i bar della città. Fondamentale è stato anche il contributo di Idio Stampa, dell'Auser di Fano, dell'Aima, Associazione Italiana Malattie di Alzheimer e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Il libro consultabile online potrà essere ritirato gratuitamente nelle loro sedi. Abbiamo costruito il centro Alzheimer, che è uno dei migliori che c'è in Italia, e l'abbiamo messo a disposizione della collettività gratuitamente, quindi siamo sicuramente insensibili. E anche l'iniziativa che è stata presentata oggi, alla quale abbiamo dato con il nostro contributo economico per contribuire alla stampa, è un'iniziativa che doveva essere presentata. Pandemia consentendo a fine febbraio nella nostra sala di rappresentanza, chiaramente è stata annullata questa presentazione, abbiamo messo a disposizione i nostri spazi per consentire questa conferenza stampa e quindi la conoscenza da parte del pubblico di questa pubblicazione che è stata curata dai fratelli Pacrezioni.